Musica Un video musicale sospeso su Pricelli di Moglia l'ha realizzato il videomaker Franco Lanfredi chiamato dal fotografo Gianni Bellesia a riprendere il sonora mentre si esibivano per i fan del comune perremotato dal cestello di una gru. in modo tale che potessero così dare sfoggio della loro qualità musicale con questo brano chiamato Si chiama Libertà. Musica Alle difficoltà tecniche si è giunto il brivido di essere a 50 metri da terra. Avevamo il cielo e il vuoto sottostante anche se eravamo sospesi a 50 metri, anche se eravamo indragati, anche se eravamo in totale sicurezza. Per le riprese handicap con stabilizzatore e un esacottero. Per le riprese aeree a distanza di circa una decina di metri che sorvolava la parte dove c'era la piattaforma. Questo viaggio sopra le città si chiama Libertà.